Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial Vi ricordo che se volete veramente imparare come creare videogiochi con Construct 3 Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i corsi gratuiti Molte delle lezioni che faccio valgono anche per chi utilizza la versione di Construct 2 Quindi non preoccupatevi Vi ricordo che sempre in descrizione trovate anche la playlist con tutti i video tutorial che ho fatto qui su YouTube Dove faccio vedere come fare alcune cose che potrebbero essere utili anche nei vostri videogiochi Oggi vedremo come creare all'interno del nostro progettino Vi ricordate questo piccolo gioco che avevo fatto che poi non era un gioco Era semplicemente una meccanica che poi non ho mai finito Come creare un filtro vecchia TV Adesso vi faccio vedere di cosa sto parlando Vi ricordate i vecchi televisori a cubo catodico? Bene, oggi facciamo un effetto proprio di quel genere Quindi non vi preoccupate La prima cosa che dobbiamo fare Vi ricordo che ora utilizzeremo gli effects E gli effects funzionano soltanto se l'utente dall'altra parte ha il WebGL installato Quindi è molto probabile che forse su alcuni dispositivi vecchi Quindi questo filtro, questi effects non funzioneranno Però più avanti andiamo nel tempo Più tutti i dispositivi avranno il WebGL Quindi non sarà un problema Clicchiamo sul nostro livello Object E inseriamo il primo effects in particolare per fare questo effetto Ovvero il Grayscale Il Grayscale è un effetto Come si può leggere qui Rimuove i colori Resalti in una Grayscale Imaging Quindi noi lo attiviamo E quello che dobbiamo fare semplicemente È poter impostare il tutto al 70% Come potete vedere il Grayscale va a togliere i colori di un'immagine Quindi va a desaturarli Questo potrebbe essere ottimo per fare alcune particolari modifiche All'interno del nostro videogioco Possiamo mettere al 90% Se ad esempio mettiamo 0 succede che ovviamente il Grayscale non c'è Se mettiamo 20 vediamo è poco poco meno saturo Se mettiamo 80 molto meno saturo Se mettiamo 100 è completamente in bianco e nero Quindi possiamo mettere ad esempio un 50% Questo effects potrebbe essere ottimo ad esempio per fare alcune cose in particolare All'interno del nostro gioco immaginiamo meno vita abbiamo Meno saturo risulta il mondo Potrebbe essere un esempio in particolare su come utilizzare questo effects Subito dopo per dare quell'effetto rumore all'interno della nostra immagine Vi ricordo che per realizzare un effetto di questo genere Dobbiamo applicare questi effects in tutti i layer In questo caso il mio gioco è all'interno di un singolo layer Quindi cosa faccio? Inserisco tutti gli effects in questo unico layer Per creare questo effetto rumore all'interno del mio videogioco Quindi per creare quell'effetto a tubo catodico Quello che devo fare è semplicemente andare su effects Aggiungere un altro effetto E posso implementare il noise Il noise va ad aggiungere un po' di rumore all'interno della nostra immagine Quindi lo applico E già vedete come risulta qui l'immagine Guardate un po' Guardate che cosa interessante succede Quindi possiamo chiudere la pagina degli effects Guardate quello che succede Io ovviamente vi consiglio di applicare queste modifiche all'interno del vostro gioco Dove c'è anche uno sfondo Io adesso ho preso questa immagine con uno sfondo nero E con la pistola tra virgolette e basta Se vado sul mio object Il noise funziona così L'intensità del rumore Tra virgolette E il colore Vi consiglio sempre di leggere le definizioni Di ogni singolo parametro Di ogni singolo effects In modo tale da imparare proprio A cosa servono proprio quei parametri In quell'effetto in particolare L'intensità possiamo modificarla ad esempio a 20% Possiamo vedere che adesso al 20% è minore rispetto a prima Mettiamo ad esempio 80% E ovviamente il rumore sarà tantissimo Possiamo ad esempio mettere un 40% Se già clicchiamo su play guardate quello che succede Ecco come risulta il nostro videogioco Vedete cosa succede? C'è questo rumore all'interno del nostro videogioco Che va ad aggiungere proprio questo effetto di noise all'interno del nostro gioco Quindi rumore Ed è una figata E il gray scale ovviamente ci permette di desaturare tutto quello contenente all'interno del nostro layer object in questo caso Subito dopo per dare quell'effetto tubo catotico Quindi per arrotondare tutta la nostra scena Dobbiamo aggiungere un effects in particolare Io vado su effects Vado su aggiungi nuovo effetto E possiamo aggiungere l'effetto bulge Eccolo qui Espandi o contrai il centro di un'immagine Aggiungi E guardate quello che succede Ci allontaniamo all'interno della scena Ovviamente lui è così Non è che è buggato È semplicemente così che fa vedere Guardate un po' Clicco sul mio object E attualmente come raggio ho 50% Se metto 10 succede questo Se metto 30 succede questo E come scale proviamo a mettere ad esempio 70 Vediamo cosa succede Clicco su play Non ci fate caso all'effetto che vi fa vedere in anteprima lì Perché è sbagliato Potete vedere? Visto il raggio è troppo centrale Quindi noi vogliamo che sia Più attorno all'interno della nostra immagine Quindi cosa possiamo fare? Clicchiamo all'interno del nostro layer Che ha questi effetti E all'interno di raggio possiamo mettere 70% Quindi va a prendere tutta la nostra scena E come scale Vogliamo che cambia di poco il contenuto all'interno Quindi possiamo mettere ad esempio 20% Perché se noi mettiamo 100 Vuol dire che tutto quello all'interno del raggio Verrà rescalato Quindi verrà ridimensionato Clicchiamo su play E vediamo come risulta adesso la nostra scena Guardate che figo adesso Adesso ha proprio un effetto a tubo catodico Veramente molto molto figo Come avete visto bastano pochi effetti Per modificare l'immagine all'interno del nostro gioco Possiamo anche aggiungere un altro piccolo effetto All'interno della nostra immagine All'interno del nostro layer in particolare Faccio aggiungere un nuovo effetto Vado ad applicare un blur horizontal Quindi per creare un po' di sfocatura orizzontale Vado ad applicarlo all'interno della mia scena Vado a mettere come intensità 30% Anzi poco poco di più Quindi 45% E vediamo com'è il risultato Quello che vi consiglio è di sperimentare tantissimo con gli effects Perché potete creare cose veramente interessanti Come avete visto il gioco è rimasto invariato Però grazie agli effects cambia completamente lo stile grafico Vi ricordo che poi Come vi ho fatto vedere nel tutorial Su come utilizzare gli effects E come utilizzare anche il behavior timer Vi ricordo che potete anche fare Che questi effetti vengono applicati Soltanto in un determinato momento Soltanto quando abbiamo un power up O soltanto quando abbiamo poca vita Quando volete voi E' una cosa fighissima Immaginate all'interno del vostro gioco C'è un piccolo cabinato all'interno del gioco Cliccate su play E si modifica la scena E entrate ad esempio all'interno del cabinato E giocate Quindi si possono fare anche cose di questo genere Con Construct Quindi ragazzi Se vi è piaciuto questo piccolo video tutorial Fatemelo sapere con un commento E con un like qui sotto Perché ci tengo veramente tanto E niente Io spero che questo video vi sia piaciuto Vi auguro un buon sviluppo di videogiochi Sperimentate tantissimo con gli effects Per fare cose interessanti Io vi ricordo che vi basta semplicemente Iscrivervi al canale Per rimanere sempre aggiornati E quindi niente Ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao Ciao